vai diego vai diego arriva prima di noi questa è la sua preferita la giorgio rocca poi gli mando il video dai vedi che ti sei già rilassata devi vincerla elena se no non vinci più queste cose fai arriva giù prima di noi lo vedi è la sua preferita è andato